i ravioli di carne alla griglia ma come si diverte antonella fiordelisi da sola è vero a volte manca quella complicità che solo due persone innamorate hanno ma si sta bene anche da soli soprattutto quando sai che la persona che tu volevi con tutto il cuore ti ha lasciata da sola non ti cerca più non ci può essere nessun motivo che tenga una persona innamorata lontano da te se è amore ma se non è amore si fa presto a dimenticare non servono a niente anche le continue frecciatine ma servirebbe una volta per tutte un chiarimento anche per mettere uno stop finale e poi anche per il rispetto dei numerosi fan voi come la pensate intanto antonella si diverte ha ragione e balla all'impazzata in discoteca poi cena cinese col polpette di granchio fritte che sono diventate per lei un piatto gustosissimo perché sono davvero buonissime e per finire la fantastica novità ravioli di carne nella griglia davvero gustosi intanto antonella ha fatto i complimenti ai suoi fan la cosa che amo del dei miei fan e che sono come me in molti aspetti non sono mai falsi dicono quello che pensano e spesso risultano cattive mentre in realtà esprimono solo le loro opinioni